Trapianto di cuore riuscito per la piccola Aurora. La bimba di 10 anni di San Felice a Cancello, in provincia di Caserta, era in attesa del trapianto da 8 mesi. È stata operata nella giornata di domenica 1 maggio 2022 presso l'ospedale Monaldi di Napoli. L'operazione è riuscita, la bambina adesso è ricoverata nel reparto di terapia intensiva per il fisiologico decorso post-operatorio. Nei prossimi giorni sarà risvegliata gradualmente. Una volta ristabilita si potrà quindi tornare finalmente a casa dalla sua famiglia. Dopo quasi un anno commenta Severino Nappi, consigliere regionale della Lega. Aurora, la bambina di 10 anni che era in attesa di un cuore nuovo, è riuscita ad avere finalmente il trapianto. Una bella notizia che ci riempie di gioia e speranza. Complimenti ai medici del Monaldi e un abbraccio alla mamma Pina, guerriera insancabile. Guarisci presto piccola Aurora, hai ancora tutta la vita davanti a te.